Ho sentito in campagna elettorale tutti i candidati presidenti esprimersi sull'elemento del lavoro come elemento cardine e principale della propria azione politica ed amministrativa. Noi riteniamo che su questo tema dobbiamo spingere tutti fortemente per far recuperare all'Abruzzo quel gap che in questi periodi, in questi anni, si sono persi, vuoi per la crisi nazionale, internazionale, vuoi per il terremoto, per tutta una serie di questioni. Il tema del lavoro è anche al centro di questo documento ed è al centro del dibattito che noi vorremmo fare con il prossimo presidente della Giunta e la sua Giunta. Approvare il PEF per le autostrade A24 e A25, la messa in sicurezza e anche il caropedaggio, mettere le risorse necessarie al trasporto pubblico, le aree interne, la sanità e il sociale. Sulla sanità abbiamo una grave carenza di personale sanitario negli ospedali, abbiamo bisogno di più medici nel territorio, di abbattere le liste di attesa e sul sociale di dare risorse per curare le fragilità, quindi le persone anziane e i disabili. La programmazione è alla base di quelle che possono essere le scelte della futura politica regionale. Strumenti di programmazione che noi riteniamo validi, da aggiornare sicuramente, ma che sono alla base di una politica industriale omogenea e organica. Per fare questo ragionare in termini di una verifica e di una cantirabilità del masterplan, del patto per lo sviluppo, della carta di Pescara, ma noi diciamo anche dell'attuazione di quella ZES, zona economica speciale, che può avere linee strategiche importanti per l'Abruzzo, sono alla base della crescita, dello sviluppo e dell'occupazione della nostra regione.